Buongiorno a tutti e benvenuti nel tuo canale di Vrastro a Corsica. Oggi parliamo di La lingua corsa, perché oggi è stato portato contro La lingua corsa un attacco violento. Questo attacco è stato pubblicato da un nuovo observatore, un settimanale che vi ho conosciuto tutti, sotto la piuma di Angelo Rinaldi. Angelo Rinaldi scrivono un critico letterario in Parigi. Da tanto si passa un mese senza che un editorialista parigino, appoggiandosi che la lingua corsa non esiste mica. Sarà più vicino a questa lingua di Uvriscio Merlaglio che di una lingua umana. Grazie.